Tre curiosità su Bill Gates. Lo sapevi che nonostante il suo immenso patrimonio, Bill Gates ha deciso di donare ai figli solamente 10 milioni di dollari ciascuno. Seconda curiosità, Bill Gates legge 50 libri all'anno e sostiene che resta il suo modo principale per imparare cose nuove. Terza curiosità riguarda uno dei suoi acquisti più pazzi risalenti al 1994 quando ha acquistato il codice di Hammer, un manoscritto di Leonardo da Vinci pagato quasi 31 milioni di dollari. Se avete apprezzato questo video potete ricambiare iscrivendovi al canale e lasciando un bel like.